Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, siamo qui su StumbleGuys perché oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, se non ci qualifichiamo dovremo bere praticamente una sorta di limonata a gusto menta, che a me la menta non mi piace e vediamo un po', abbiamo la skin di Superguy, visto che l'abbiamo trovata qualche giorno fa sì, quando non ho fatto video ho fatto l'autorato, intanto con me ci siamo buggati non ci importa, dobbiamo arrivare praticamente o primi o secondi perché così dai, prendimi sto trick, perfetto Supernam, ehm, volevo dire, ma perché non mi ha fatto, no io sto provando a fare una roba vabbè lasciamo stare, ci qualifichiamo per secondi l'importante è qualificarsi, non importa, anche se faccio delle paperate l'importante è non bere sto coso che fa abbastanza schifo intanto siamo 8 su 16 uh, bullizzato però si qualifica lo stesso il, come si chiama il leone mettiamo qua la webcam qua è un po' tutto bagnato quindi io mi metto praticamente in questo modo intanto il nostro Superman si spara la web la dub quella là e vediamo un po' se esce una mappa tipo che mi si chiama, che ci qualifichiamo, che sia facile eh, potevo uscire super slide, ma cambiamo un attimo postazione tipo così ah, è là che è bagnato, non qua allora, va bene bene oh, siamo saliti sulla testa di un player così siamo saliti ah, quello là ha fatto un trick che non si può praticamente fare attenzione che io mi aspetto da questa skin speciale un trick ultra no, l'ha fallito abbastanza però noi falliamo anche questo perché questi asteroidi sono pronti sempre a colpirci bene o male che questa non è la finale perché la finale conta e noi non vogliamo essere perdere la finale perché cosa vuol dire perdere la finale? bere quel succo alla menta e visto che nessuno vuole bere il succo alla menta guarda come mi abbia preso in volo io non lo so io mi butto di là perché me lo sento che è di là lo sapevo poi non riesco a fare mai trick da provo posso salire qua voglio fare una roba guardate si un mico vabbè meglio se ci qualifichiamo perché vada bim bum barabamba biribum bum barabamba ci siamo qualificati non ci sta più quello là eccola no fa ta de file ta de fail e di là e di là scrittino di là perso ragazzi dobbiamo vincere sta finale perché io bere sto coso io non lo voglio bere perché io ve lo giuro è veramente alla menta perché forse non si vedrà dal video ma forse così si vede è verde verde blu verde come questi ostacoli di over e under speriamo di di qualificarci per la finale altrimenti mannaggia il body block iniziale ci tocca averlo bello ok attenzione non funziona il trick perché non funziona vabbè non ci importa attenzione attenzione fatti prendere fatti prendere ostacolo si un mico si un mico come era sbagliata come era sbagliata ci siamo qualificati e ancora tocca questo coso arrivare intanto ci spariamo la dab così mo la faccio sega anche se la dab è un altro modo perché l'altra mano è occupata e non so come si blocca sto tablet non ho manco la custodia e niente andiamo col prossimo round insieme a super guy intanto pubblicità che parte a caso bene eccoci qua in partita vediamo se esce c'è una mappa un po' facile da fare senza che dopo ci tocca ok humble stumble perciò possa uscire super slime inizio game niente humble stumble vabbè lo vorrei ripetutti una volta ci sono due super guy e niente so che non ho praticamente mannaggia troppo body block volevo dire ma secondo voi quale skin è migliore non ho non ho praticamente come si chiama i sondaggi perché non ho mille iscritti intanto lasciate like e iscritte al canale e praticamente vi voglio chiedere questa cosa rispondete secondo voi cos'è ma secondo voi è meglio questa skin del super eroe tanto ci siamo qualificati per fortuna o la skin di banana guy o miu qual è secondo voi la vostra skin migliore quando avrò mille iscritti farò proprio questo sondaggio andando di nuovo la dub e ragazzi fate iscrivere tutta la vostra pagina così arriviamo ai mille iscritti e posso farvi questo sondaggio vediamo ok block dash bravo ma non così tanto quando arrivano dopo gli spuntoni e poi è anche raro che becco gli spuntoni lo spicolo e tutto facciamo un ghost jump ce l'abbiamo fatta i blocchi sono invisibili ok questo non ha funzionato ma poi va bene neanche perché ci sta anche perché superman questo stumble guy super guy è un super eroe e quindi attraverso i blocchi intanto però non ci riesce sempre non ci riesce sempre non ci riesce ma ancora oh no oh no va bene grazie che per no no la maledizione mi sembrava di essere stato preso con l'abbraccio intanto siamo super veloci qua tutti quanti a fare il body block si tutti quanti a fare il body block ancora non ci oh no oh no salta bene salta bene no 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 con fortuna qualificato e per poco pensavo di bere sto robo vediamo un po' questa finale se la vinciamo altrimenti ci costa bere quel coso io non lo voglio bere quindi lasciate un like per la fortuna ecco jungle roll per la finale poteva uscire super slide così sono più bravo no in jungle roll si nei semifinali mi qualifico praticamente sempre nelle finali invece no cioè faccio abbastanza schifo in jungle roll perché proprio perché è la giungla così a caso l'ho detto shish ok questo qua prova body blockarmi ma attenzione non siamo primi ma forse ce la possiamo fare se forse faceva ora il double jump magari cadeva di sotto attenzione non siamo primi per no per niente centrale centrale possiamo vincerla possiamo vincerla eh no però no ragazzi io non lo bevo quindi facciamo un'altra partita no sto scherzando naturalmente lo beviamo siamo sicuri che sia la menta assaggiamo anzi ammuseamo si 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 che si 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 a proprio schifo la menta bene eccoci qua in partita speriamo che riusciamo a vincere altrimenti ci tocca bere qualcosa alla menta io non lo voglio bere quindi non lo beviamo lasciate like iscrivete al canale attivate la campanella e portate fortuna questi qua già che bovi bloccano va bene dai possiamo farcela ok ci sta ci sta intanto stai esplodendo giusto da quella parte bene bene vediamo un po se riusciamo a qualificarci altrimenti quel cosa la menta veramente non lo voglio bere super slide super slide a noi ci va bene tantissimo o due super guy vicino bene bene no allora questo trick non ce lo facciamo mai a farlo cosa mi ha colpito le forze invisibili ma colpito molto bene ma ma come mi può colpire una cosa se io sono basso c'è ma no è stumble gas è un gioco rotto di nuovo due e tre volte è rotto ok adesso è ora di andare in god mod perché stumble guy e praticamente super guy la g sta per god mod intanto sto per fare il trick con la parte dovevate clic parla solo se ci riuscivo non ci sono riuscito qui non dovete cliccare un bel niente attenzione passiamo sul bordo quel quello la si equ si è incastrato come io mi sono incastrato ora niente io vado a sbattere sempre su quell'elica non so perché c'ho voglia di essere sempre colpito da quella ventola intanto il povero player 1 9 5 come che si chiama non si è qualificato il povera anche il povero non si è qualificato tutti quanti a fare la dub e niente 10 minuti di registrazione speriamo questa finale di over e under non sono per niente bravo non sono per niente bravo solo prima che praticamente quello la è caduto di sotto non lo so com'è che è andato a finire ma attenzione stiamo andando bene stiamo andando bene oh no 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 il trick l'ho sbagliato il trick l'ho sbagliato tantissimo questo potrebbe essere la rovina ma noi non ci arrendiamo e ci andiamo a qualificare quindi let's go e ci siamo qualificati abbiamo vinto pure questa finale quindi questo cosa lamenta che adesso però è aumentato un po' di più perché ho mandato una mia amica a riempirlo ebbene facciamo un'altra partita vi faccio vedere soltanto quanto ci siamo qualificati è uscita tilefall ci siamo qualificati per fortuna altrimenti sto cosa lamenta io veramente non lo voglio bere allora è uscita super slide e volevo dire laser 3 scusate purtroppo ragazzi non ci siamo invece ci siamo qualificati facciamo la dub di superman anzi super guy vediamo vediamo la finale vediamo che esce e ragazzi questa ve la riprendo tutta e se non basta il video per la memoria faccio la continuazione allora concentriamoci guarda io sto zitto tutto il tempo basta non mi interessa datemi un momento 100 100 sicuro commettiamo sicuro tutti quanti sono avanti oh magari non viene colpito non è stato colpito manco per il cavolo e l'abbiamo persa e va bene visto che questa è la parte finale del video lo bevo un botto ragazzi ne bevo un botto non mi interessa 3 2 1 ne bevo ancora guardate guardate così si vede basta 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 ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanellina iscrivetevi a dark e seba e iscrivetevi anche a intanto me lo scrive sempre male questo x rolex iscrivetevi a btcx rolex e niente da nico è tutto bella ragazzuoli beee